Grazie al professor Manzella per essere con noi per parlare dei 75 anni dell'articolo 47 della Costituzione. Parliamo innanzitutto del clima in cui questo articolo è nato. Il 19 maggio del 47, mancano sette giorni, ci fu un dibattito molto lungo, questo è il gran libro dei dibatti dell'Assemblea Costituente, ma è un articolo che in realtà non doveva nascere, perché la commissione preparatoria, la famosa commissione presiduta da Meuccio Ruini, aveva presentato un testo molto asciutto, la Repubblica tutela il risparmio. A questo punto si leva a parlare l'onorevole Tommaso Zerbi, che dice ma noi non vogliamo che nella Costituzione ci sia un'affermazione retorica, formale, noi vogliamo una difesa sostanziale del risparmiatore e perciò noi vogliamo che si preparino meccanismi che tutelino il risparmiatore dalla grande tragedia. usò proprio questo termine, la grande tragedia della svalutazione. A sentire parlare di svalutazione si leva a parlare un potente alleato di Tommaso Zerbi, che era uno dei primissimi luoghi della Costituente, cioè Luigi Enaud, il futuro Presidente della Repubblica, che disse di aver grandemente apprezzato, disse proprio così grandemente apprezzato le parole di Zerbi e l'articolo passò. Nell'articolo quindi si va nello specifico, si cita, parlando del mondo anglosassone, l'investment trust, cioè un meccanismo di investimento che coinvolge risparmiatori, che diversifica il rischio, quindi in questo senso ci fa capire anche la lungimiranza dei padri costituenti che guardavano all'estero e guardavano allo sviluppo futuro, ai decenni futuri del risparmio. Assolutamente sì, nell'Assemblea Costituente ci fu questa visione anticipatrice del risparmio, non come virtù solitaria e tutto sommato legata al piccolo calcolo degli interessi, ma del risparmio propulsivo, del risparmio per gli investimenti. Ora, se lei pensa ai nostri ultimi mesi difficili, abbiamo avuto il capovolgimento della stessa governance economica europea che dall'austerità, dal risparmio, è andata dal risparmio per gli investimenti. Ed è la filosofia a cui si ispira anche il nostro piano nazionale di ripresa e di resilienza. Quindi c'è questa proiezione nel futuro, che fu proprio dei padri costituenti. Ha parlato di un potente alleato tra i primi banchi dei padri costituenti e Inaudi, che va in soccorso di Tommaso Zerbi. Ma chi era Tommaso Zerbi? Tommaso Zerbi, lo possiamo definire, era un ragionat, ma un ragionat di lusso, perché aveva insegnato ragioneria prima alla Bocconi e poi alla Cattolica. E una bella storia personale. Fu aderente al Partito Popolare di Luigi Sturzo, poi nella guerra fu partigiano, partigiano bianco nel Comasco, poi nella democrazia cristiana di Alcide De Gasperi, poi sottosegretario nel governo Pella, in quel governo Pella che aveva fortemente voluto Luigi Inaudi, presidente della Repubblica, e quel cerchio si chiude, chissà. Forse quando alla nomina di quel sottosegretario Luigi Inaudi pensava a quel grande apprezzamento di tanti anni prima. Quando Zerbi morì a 93 anni, 21 anni fa, Corriere della Sera gli dedicò 5 righe. Ma forse era giusto così, perché la nostra Costituzione è stata fatta da uomini come Zerbi, che hanno legato la loro storia personale, fatta di studi e di esperienze sul campo, alla grande storia nazionale italiana. Quello che riguarda il risparmio non è il solo articolo della Costituzione a prendere poi forma compiutamente nelle leggi dello Stato dopo anni. In questo caso parliamo del 1983 con la legge 77, con proponente il ministro del Tesoro Andreatta. Due anni dopo nasceva Sogestioni, ma come i padri costituenti immaginavano il rapporto fra lo Stato, il mondo delle associazioni e la società civile? Vedete, nell'Assemblea Costituente, nel discorso di Tommaso Zerbi, a un certo punto, volendo spiegare che cosa erano questi fondi di investimento, Tommaso Zerbi dice noi pensiamo a grandi cooperative di investimento, cioè usa una parola magica, cooperazione, che poi è l'articolo, prima della Costituzione, l'articolo 45, che parlava della funzione sociale della cooperazione. Quindi l'idea che intorno al risparmio si creasse una classe, una classe non classe, era presente, era presente e soprattutto vi era questa concezione proprio delle formazioni sociali, c'è l'articolo 2 fondamentale della nostra Costituzione, che dice che la Repubblica tutela i diritti della persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si realizza. Quindi abbiamo questa armonia nella nostra Costituzione. Ecco, per celebrare 75 anni del risparmio nella Costituzione, il Mise ha deciso di dedicare a questo settore un francobollo della serie Eccellenze Italiane Economiche e Produttive. Come lo immagina il professor Manzella? L'immagino così senza molta preparazione tecnico-finanziaria, io immagino un grande campo, semplicemente con la moneta di un euro e sotto associazioni, cioè la vostra associazione, che tutela nella forma pioneristica in cui l'avevo immaginato Zerbi, ma certo con tutte le evoluzioni della tecnica finanziaria, che è tutto il risparmio. Ecco, il risparmio si fonda su un euro, sull'inizio del risparmio è un euro, che poi diventa la vostra realtà fatta di miliardi, fatta di 12 milioni, circa 12 milioni sono quelli i sottoscrittori di fondi di gestione.